I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal dottor Emanuele Crescenti, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal GIP del locale tribunale che dispone l'applicazione della misura cautelare del sequestro di beni immobili e immobili per un valore di oltre 465 mila euro nei confronti del titolare di una ditta individuale di Seminara. In particolare, con il provvedimento, la citata autorità giudiziaria ha disposto, fatte salve le successive valutazioni in merito all'effettivo e definitivo accertamento della responsabilità nelle ulteriori fasi di giudizio, il sequestro delle disponibilità finanziarie dell'indagato, nonché dei beni mobili ed immobili riconducibili al medesimo. Le fiamme gialle della Compagnia di Palmi, attraverso un controllo fiscale concluso nell'aprile di quest'anno, hanno ricostruito l'ammontare delle imposte relative agli anni dal 2020 al 2022, per i quali il rappresentante legale della ditta non ha presentato le prescritte dichiarazioni ai fini di IVA, venendo di conseguenza segnalato all'autorità giudiziaria per il superamento delle soglie di punibilità delle imposte vase. All'esito delle indagini, pertanto, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi, condividendo la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica a quella sede, ha disposto il sequestro delle somme vase.